Il punto in prefettura anche in attesa delle decisioni che potrebbero arrivare dal Consiglio dei Ministri di oggi. La situazione pandemica è in evoluzione, test e vaccini corrono, ma sotto osservazione sono le scuole. Sul tracciamento, in collaborazione con i comuni, si deciderà oggi in regione. Va condotta un'attività di screening, in questo caso a tappeto, su tutte le fasce di età scolare. Ci siamo già provvisti della numerosità dei test rapidi, dei quantitativi necessari, anzi li forniremo anche all'asma di Matera per essere omogenei su tutto il territorio regionale. Quest'attività di screening impegnerà molto le aziende, perché parliamo di una popolazione intorno alle 80.000 unità comprensive del personale dipendente della scuola, quindi non solo gli studenti. Da lunedì prossimo applicazione del Green Pass rafforzato ai nuovi servizi. Le forze dell'ordine dovranno predisporre controlli più serrati e diversificati. Dal 6 dicembre, con le prime disposizioni, sono stati controllati 21.746 Green Pass, 72 le sanzioni, 185 le persone multate perché senza mascherina. Abbiamo fatto anche una serie puntuale di controlli alle attività e agli esercizi commerciali. 4.537 applicando 43 sanzioni. Quindi un dispositivo molto puntuale sul territorio che adesso dovremo ulteriormente rivedere alla luce delle recenti indicazioni venute dal Consiglio dei Ministri. Grazie. Grazie. Grazie.